Fermi tutti, tra poco... Allora, è sicuro, lei mi garantisce che non vota? Ma quando mai? Grazie! Fermi tutti, fermi tutti, torniamo tra un attimo. Max e le ci sono fei, intanto un applauso anche alla mitologica Romito, la nostra prostituta preferita, la nostra escort preferita, ecco la Donatella Romito, prostituta di altissimo bordo, giusto? Di altissimo bordo. Fermi tutti, fermi tutti. Quanto costa, sì? Piacere, diciamo. Grande Crooks, finalmente hanno riaperto la Falafel Cup e tu con i tuoi capelli unti non potevi certo mancare. Obiettivo minimo? Passaggio del girone, ma secondo me possiamo alzare anche la coppa al cielo. Combatti Giuseppe! È un concorso che viene fatto sull'internet che si chiama Falafel Cup, dove mi hanno coinvolto a mia insaputa, ma accanto a me, dopo le quattro volte nello stesso giorno di inizio, c'è anche la mitologica accompagnatrice Donatella Zaccagnini Romito, che non capisco perché non voglia farsi chiamare nella sua vera professione, come insegnano i nostri maestri, come insegniamo noi qui alla Zanzara, pane al pane, pino al vino, ma comunque lasciamo perdere, che diceva che mentre rizzo quattro volte al giorno con persone diverse... racconto un aneddoto, solo verità, ci sono persone, la stessa persona che è venuta da me quattro volte in un giorno, pagando ovviamente... Cioè la stessa persona? La stessa persona... Mattina, pomeriggio? Esatto, mattina, pomeriggio, mezzo pomeriggio e sera! E che cazzo hai venuto a fare quattro volte? Aveva bisogno di vedermi... Quante volte ha pagato? Quattro su quattro ovviamente... Cioè quant'è? Migliaia di euro? Il gettone minimo e l'ingresso minimo Quanto è? Antorno ai 200-300 200-300, grazie, grazie, grazie Si accomodi ancora là Abbiamo ancora... 200 euro? Abbiamo ancora Max e le Jason Fee